Ti vengo a prendere perché non ho scelta Perché so vivere una sera per volta Io ti vengo a prendere perché dove andiamo non importa Ti voglio credere per come cammini Per le promesse che comunque mantieni Io ti voglio credere per quello che chiedi e che non chiedi È una città piuttosto dura Dipende quanto vuoi pagare E tu che sai quali porti aprire Sembri sapere come va a finire Ciao ragazzi, benvenuti nello spazio di memorabilia Dentro questo stand ci sarà il museo di ipotipi Allora ci accompagni, ce lo fai vedere Ok, benvenuti nello spazio di memorabilia E' un po' di tempo Campopolo Ci sono Facetta Originale Mi raccomando Comprate la facetta Quest'anno è una figata Magari vi trovate anche voi Non so, forse qua Come vanno i lavori? Molto bene Caldi Sono molto caldi Siamo quasi pronti per il campo volo Assolutamente sì Ecco ragazzi Questo è solo per farvi capire Che esiste già qualcosa E queste sono le teche Dove sarà la discopertia di Luciano Come vanno i lavori? Alla grande Sarà un trionfo Vi aspetto tutti sabato Adesso vado via con mio bel Landini Gioà? Sì La chiamola tutta Tutto da il partito Gioà Tutto pronto con i parcheggi? Sì, adesso sto montando le ultime torre a faro Poi entro domani dovrei finire I parcheggi sicuramente saranno illuminati Poi dovremo fare la prova la sera Ragazzi siamo con Gary Ciao Gary Ciao Ciao Va benissimo Sì sì Ci stiamo preparando Come vedete Siamo a posto Siamo in forma Tu cosa stai montando? Batterie per il clandestino Per la banda E la chitarra di rustici Siamo carichi per sabato Carichissimi Allora Fede Tutto ok per sabato? A postissimo Andiamo avanti Come dei missili Comitiamo un pregozzo Andiamo avanti Noi qui registriamo Tutto l'audio del concerto Multicanale E per poi il purei C'è quello che sarà Questa sono le chitarre Questa sono le chitarre di luciano Fantastici chitarre di luciano Una più bella dell'altra E adesso questo è il basso di cave Quindi sto cambiando le corde Perché è ora di cambiarle Le corde vengono cambiate spesso Anche perché la corda nuova Dà più suono È un suono più brillante Invece con la corda usata Tende a spegnersi un po' il suono Quindi ogni tanto Nei bassi un po' meno Nelle chitarre Ormai Il mood è che ogni spettacolo Vengono cambiate le corde Per il suono Queste sono le chitarre di? Questa 335 E quella E la Les Paul Di Mel Mentre SG Mustang L'Epiphone Acustica E la Tene che dovrà arrivare Di Niccolò Bossini E adesso tu le stai preparando Preparando Pulendo E accordando Come sta andando Come sta andando L'invenzione Direi perfetto Siamo in anticipo di un gol Noi siamo sempre più avanti Noi siamo sempre più avanti Anche se molte volte ci dobbiamo fare in gol Siamo in più Un consiglio a tutti Un consiglio a tutti i fans Di Gianluigi Per sabato Per sabato direi di essere tranquilli e calmi Che passeranno sicuramente una bella giornata